Io non sono qui, perché sono di Perù, sto un po' pauroso perché è la prima volta che sto parlando con uno dei presidenti. Per ogni cosa io sono come te, no? Voglio che ti calmi e sei contento perché come sei emigrato tu al Perù, qui in Italia, sono emigrato in America. E se qualcuno mai ti prende in giro o dice qualcosa, tu dimostri a loro che sei più bravo di loro. Sai come devo dimostrare? Lavorare forte e andare a scuola, ok? La stessa cosa che ho fatto io, so incoraggerti, ti voglio bene, ok? Ricorda che io sono come te e ciò che dice tua mamma di aiutarti.